Cosa diresti al tuo campione preferito se lo vedessi? Ciao! Sapete perché siamo qui? No. Perché oggi voglio vedere se siete forti quanto i giocatori veri. Siete pronti? Sì! Ottimo! Io vi propongo di guardare un video insieme. Olè, chi ha lui? Barella. Barella? Olè, no. È forte? Sì, sì. Chi è quello? Sei te. Ma pensavo sei tu. Chissà com'è Onana quando si tuffa. Non so, provo a immaginarmelo, però lo riconosci. Lui, sai chi è? Lo stai. Tu sai fare quei gol così? Se in testa sì. Posso... posso sedermi? Sì. Ciao, posso! Ciao! Non so che sei uguale i denti con me, eh? Li tagliamo un po' qua. E poi ci siamo, eh? E anche il mio sogno si è realizzato. Ciao! Grazie a tutti